Biografia di Antonio Magnano È nato il 16 luglio del 1966. Consegue diploma di segretario d'azienda e segue un corso per restauro mobili. Nel 1990 apre una bottega di restauro e qui nasce la sua creatività di materie gomma lacca. Iscritto all'Accademia dei Leoni Lentini, esegue le prime collettive ispirandosi a Van Gogh. Pittura elementare ed essenziale con uso di gomma lacca su una grande varietà di supporti. Soffa di vino, tele, tavole, cartone telato, cartone pesante, carte.